come vai? ma loro non hanno fatto niente prego prego guarda che mi sta venendo tanto a no mi sta venendo tanto a no anche per me il gran cielo qui, lì pensa il blanco, è stabile ho fatto 3 totale simpatici il blanco è il gran cielo qui col passo lungo non si intravvesse di tanto ma io devo dire che ho fatto ma c'è un problema è una macchina che va meglio ma scusa via il ciocco ma vediamo che col passo lungo ci sta ben vienendo nei tornavi ma benissimo se pare di essere tornato sooo eravamo al ciocco e Mario al ciocco un certo arica la mia stessa stai attento devo calessare lì Grazie. 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 Grazie.